Nato nel villaggio di Mosciano, presso le sorgenti del Topino, in diocesi di Nocera Umbra, verso il 1070, entrò giovinetto nel monastero benedettino di Sant'Eutizio, presso Norcia, ma ne fu richiamato dal padre, che voleva custodirsi il bestiame. Felicissimo, continuò tuttavia negli esercizi di pietà e carità verso i poveri, fino a suscitare le ire paterne per aver dato in elemosina una vacca. Allora fuggì e si ritirò in una non lontana località solitaria, detta Pulcano, dove condusse vita di penitenza e attese alla conversione dei peccatori. Operando molti miracoli, Quivi morì a 22 anni, il 15 di luglio del 1092. Sul luogo, frequentemente visitato dalle popolazioni vicine, il vescovo di Nocera, Anselmo, nel 1164, fece costruire una chiesa in onore di Felicissimo. Il culto si è stesa a tutta la diocesi e particolarmente viene celebrato il 15 di luglio, nella chiesa parocchiale di San Giovanni a Mosciano, dove è venerata un'immagine del santo. Un'altra immagine, che lo rappresenta in veste di pastore, è posta nella porta maggiore della città, insieme con quella del protettore principale San Rinaldo, ed una analoga è nella cattedrale. Nel 1618 il vescovo Virgilio Florenzi procedette alla ricognizione del corpo. Ringraziamo Giacomo Boccanera per il sito santi e beati.it Carissimi fratelli, oggi si celebra la memoria di San Bonaventura, dottore della chiesa, quindi una figura altissima, ma noi insomma non abbiamo questa mira di raggiungere così e dare delle informazioni complete su quello che poi la santa chiesa è in grado di fornire molto meglio di me. Oggi facciamo memoria appunto di questo eremita, uno dei tanti che il canale si prefigge di portare alla vostra conoscenza. La cosa molto molto curiosa è che questo signore appunto si chiamava Felicissimo, ecco questo superlativo che insomma diventa un po' particolare perché difficilmente si trovano nei nomi dei superlativi, quindi forse Massimo possiamo intenderlo così, ma forse non so, però comunque felicissimo qualche cosa che realmente denota o vuole in qualche maniera così essere di buon auspicio. Felicissimo che poi fondamentalmente non rispecchia la sua vita. Però quello che noi così dopo questa analisi ci vogliamo chiedere è questo, ci facciamo comunque delle domande e la prima è ma perché San Felicissimo poi diventa santo? Diventa santo perché prima di tutto in quei tempi lì era molto più facile diventare santi. Diventa santo perché a furor di popolo questa persona fa dei miracoli, fa dei miracoli e quindi è ritenuto così un uomo che agisce per conto di Dio. Oltretutto lui muore nel 1092 e dopo 70 anni il vescovo fa costruire una chiesa perché sembrerebbe questa sua devozione non sia fondata sul nulla. Quindi lui muore e non solo compiva miracoli prima, ma se il vescovo si accinge a donargli una forma di culto sicuramente i miracoli li compie anche dopo. Quindi vi è una certificazione. Noi davanti a queste cose non proferiamo parola. Però ci chiediamo in maniera un po' così, un po' dubbiosa, ma realmente la vita di San Felicissimo ha una connotazione santa. No, perché noi se dovessimo realmente vedere per quella che è la situazione ci faremo due o tre domande. Quindi lui all'inizio si comporta benissimo perché lui ha questo istinto di entrare in una vita religiosa e lui entra in quella religiosa. Poi il padre lo richiama e gli dice no, tu devi venire qui. E lui comunque osservando il comportamento che deve avere qualsiasi persona che è religiosa, quindi con il terzo comandamento onora il padre e la madre, lui torna indietro. E fino a qui ci siamo, ci mancherebbe altro. Però lui naturalmente avendo questa vocazione alla vita contemplativa ma soprattutto alla vita di carità perché poi noi lo sappiamo bene, la vita religiosa, il credere in Dio se non è fatto di opere non è, non sussiste in niente. Quindi l'azione di San Paolo e la meditazione che fa San Paolo alle genti è quella. Quindi lui deve in qualche maniera essere così, una persona viva. Quindi deve essere un religioso vivo, deve essere un credente vivo. Che cosa fa? Fa quello che dovrebbe fare un qualsiasi essere umano che comunque crede in Dio. Quindi fa la carità. Lui prende e ruba, sottrae, quindi porta via senza il consenso del padre, una vacca. Cosa succede in questo caso? A. Lui, tra virgolette, ruba al padre. B. Non fa il volere del padre. E C. Nello stesso tempo lui scappa dal padre e quindi va via. Quindi in ogni caso non rimane sotto la sua tutela o sotto il terzo comandamento. Da qui lui che cosa fa? Non solo non torna in un ambiente religioso ma va a fare l'eremita. Quindi se noi vediamo bene l'azione di quest'uomo non è propriamente secondo la legge di Dio, non è propriamente secondo il comandamento che ogni uomo dovrebbe avere. Onora il padre e la madre. Quindi quello che alla fine ci viene tra virgolette sbattuto in faccia è che la carità come fonte di amore, giustifica tutto. Cioè se noi alla fine operiamo, ma operiamo con quella carità di cuore, con quella volontà di poter aiutare le persone, ma farle in maniera disincantata e in maniera proprio libera, allora in questo caso noi realmente, come dice Gesù, no? Ha tanto amato, quindi i suoi peccati sono rimessi. Ecco l'amore è il vero amore, non quello degli uomini, è proprio questo. Il fare la carità, il donare, il dare, anche quando questo poi si ripercuote contro se stessi nel concetto che poi uno perde il padre, ha perso comunque, tra virgolette, avrebbe comunque perso l'amore di Dio, la relazione con Dio, invece che cosa succede? Lui prende e inizia un percorso tutto suo. Quindi molte volte noi quando vediamo delle situazioni in cui non ci rispecchiamo o non rispecchiano quelli che sono il catechismo della Chiesa Cattolica oppure altre situazioni, eppure quelle persone hanno un cuore smisurato, in quel caso lì probabilmente il Signore riesce così. Anche un po' se vediamo le beatitudini, si inseriscono in quel contesto lì. Le beatitudini alcune non fanno riferimento a Dio, quindi non è detto che molte persone si hanno sofferto, si hanno donato, si hanno dato in maniera molto molto grande e l'hanno fatto di vero cuore, non è detto che poi non abbiano agito. Forse nel molto meglio di noi che magari doniamo solamente quel centesimo o quell'euro mentre passa il cestino nella Chiesa, oppure facciamo delle donazioni perché il sacerdote ci chiede di donare quel qualche cosa per la ristrutturazione della Chiesa. Ecco, il concetto che oggi secondo me ne esce fuori da San Felicissimo è questo. Attenzione perché Gesù è venuto un po' per, tra virgolette, abbattere la legge, abbattere tutte queste cose, quei 613 precetti ebraici che poi si confondevano l'un l'altro, tanto più che Gesù ha detto ma attenzione perché voi con la storia della carità poi negate l'aiuto ai vostri genitori, quindi attenzione voi aiutate il Tempio ma non aiutate i genitori. Gesù invece ci fa capire questo, quindi l'azione che deve avere la persona è sempre caritatevole, quindi tu puoi mancare in qualche cosa e in questo caso San Felicissimo ha mancato gravemente verso il Padre, arrivando pure ad un'azione di furto ma nello stesso tempo quell'azione di furto viene giustificata per un'azione nobile, quindi una cosa annulla l'altra e allo stesso tempo Gesù ha detto attenzione voi ebrei perché vi è stata data la legge di così, 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 ma voi l'avete interpretata in maniera completamente diversa, quell'interpretazione in maniera completamente diversa è priva di quello che è l'amore fondamentale che Dio ha per l'uomo e che l'uomo deve avere per l'uomo stesso. Quindi in conclusione quello che noi dobbiamo realmente capire e comprendere è che la Santa Chiesa ci dice tu sei un peccatore, però cerca di stare nelle regole che il Catechismo della Chiesa Cattolica ti impone. Però se ci sono delle situazioni in cui realmente tu riesci ad amare e riesci comunque a portare avanti un'azione vera che parte dal cuore, questo ti viene abbonato a quelli che sono i tuoi peccati, tu ti andrai a confessare, tu ti pulirai, diventerai bianco come la neve dopo la confessione, ma quel bianco come la neve, quella purezza avviene solo ed esclusivamente se noi poi siamo veramente puliti col cuore, quindi veramente in grazia di Dio. Grazia di Dio non è solo la confessione, ma è quel moto personale interiore in cui si fanno le disposizioni di Dio. Un po' come diceva appunto il buon Isaia, con le labbra mi onorano ma col cuore mi sono lontani. Ecco quindi ricordiamoci sempre che alla base di tutto per sconfiggere il peccato, non solo quello personale, soprattutto quello personale, ma non solo quello personale per sconfiggere il peccato del mondo, dobbiamo donare, donare noi stessi, ma donare soprattutto quello che in realtà alla fine serve agli altri, necessita agli altri, qualunque cosa essa sia. Possiamo fare un errore, possiamo fare un delitto, possiamo fare un'azione contro Dio, se amiamo e amiamo di cuore, se doniamo e doniamo di cuore, io penso che anche Dio ti dica, però alla fine hai fatto bene. Anche Davide aveva preso i pani che in teoria non gli erano leciti, però non era non gli era stato debitato a peccato. Ecco quindi se vogliamo toglierci i peccati nostri, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prima di tutto iniziamo a togliere qualcosa da noi, per darlo agli altri. Domine, ne in furore tuo arguas me neque, in ira tua corripias me. Miserere mei, Domine, quoniam, infirmus sunt sana me, Domine, quoniam, conturbata sunt ossa mea. Et anima mea turbata est balde, et tu, Domine, usque quo, revertere, Domine, eroe anima mea, salva me propter misericordiam tua, quoniam non est in morte, ricordazio tui in inferno quis confideburtibi. Laboravi in gemitum meo, natare faciam tota nocte, lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre, amaritudine oculus meus consumtus sum ab universis ostibus mei. receditame omnes qui operamini iniquitatem quia audivit Dominus vocem fletus mei, audivit Dominus, deprecationem meam, Dominus, orationem meam, suscipet, confuntatur et contembentur vehementer omnes inimici mei reverantur et confundantur subito. Perfetto Perfetto